Buongiorno a tutti, sono Mirella Cerini, sindaco del Comune di Castellanza. Con questo video lancio un invito a tutte le cittadine e cittadini affinché si recchino presso l'ufficio anagrafe del nostro municipio per firmare una petizione a sostegno di una legge di iniziativa popolare che introduca la materia di educazione alla cittadinanza nelle nostre scuole di ogni ordine e grado. Questa iniziativa è promossa dal Comune di Firenze e da ANCI ed è sostenuta a livello nazionale da 27 associazioni tra cui avviso pubblico. L'iniziativa mira a reintrodurre un percorso di formazione per rendere consapevoli e responsabili i nostri ragazzi e le nostre ragazze così come ci chiede la Costituzione. C'è tempo fino al 9 di dicembre per aderire e firmare questa petizione. Vi aspetto, grazie.